Io mi incazzo terribilmente quando sento le chiacchiere, le favole, le ipocrisie che racconta Melucci quando parla di rinascita, di aver seminato la rinascita. Mi trovo oggi in via a scoglio del tonno, Taranto 2 e guardate le erbacce che hanno raggiunto dimensioni incredibili. Guardate, mi sposto, entro dentro, guardate un po'. Siamo arrivati quasi alla via altezza, siamo arrivati a un metro e mezzo anche di più di erbacce, di vegetazione selvaggia con ratti, insetti e schifezze varie che popolano appunto quest'area, completamente abbandonata, completamente degradata. Questa è la rinascita, è lo schifo in cui si trova Taranto 2, quello schifo di cui è responsabile l'amministrazione Melucci più Musillo, perché anche Musillo ha amministrato quattro anni e mezzo con Melucci. Ma dico io, i cittadini di Taranto 2 devono essere davvero schiaffeggiati in questo modo? Quando Melucci parla di foresta urbana, forse si riferisce a questo, non a quella che dovrebbe contenere e contrastare l'inquinamento a Taranto. Più foresta e più vegetazione spontanea di questo penso che non esista. La foresta del degrado, passatemi l'espressione certamente esagerata e colorita, ma non è possibile, non è possibile. Melucci, Musillo, guardate, guardate a che punto siamo arrivati, a un metro e 60, un metro e 70 di erbaccia, dove siete stati quattro anni e mezzo, con quale coraggio ora chiedete il voto ai cittadini tarantini, agli elettori, con quale coraggio, vergognatevi, vergognatevi e abbiate il pudore di tacere invece di raccontare chiacchiere, perché i cittadini di questa zona vi mandano a calci nel sedere, vi mandano via, politicamente parlando, non in senso fisico, ci mancherebbe, vi mandano via a calci nel sedere quando voi andate a chiedere il voto, perché voi vi state beffando di questa gente, dopo aver promesso la luna e averli ridotto in questo porcile. Bene, penso che le mie parole siano chiarissime, le immagini molto più chiare delle mie parole, non stiamo parlando di un paesaggio lunare, di una zona completamente deserta, questa è un'area trafficatissima, un punto di snodo fondamentale per il traffico, per i veicoli e non possiamo ridurre palazzine e palazzine, abitanti e abitanti, farli vivere, anzi sopravvivere, il caso di dire, in questo scempio. Il 12 giugno occorre cambiare la rotta, se volete continuare a vivere nel porcile, continuate a votare Melucci e Musillo, se volete cambiare accordate a me la vostra fiducia. Grazie a tutti.